Giovanni Bruno, un italiano in Spagna da professionista e soprattutto da General Manager di Volvo Trucks. Una presenza importante, una fiera importante, una prima ma che significa molto qua a Madrid. Assolutamente, è la conferma della nostra presenza nel mondo della sostenibilità, un mondo che ci è molto caro e vicino, il valore del rispetto del medio ambiente nella carta dei valori di Volvo dal 1972. Siamo qui grazie anche a ANFAC che è l'associazione nazionale spagnola dei costruttori di veicoli industriali e commerciali e di auto, quindi l'equivalente di ACERA qui in Spagna. Ci hanno invitati come ponente a questa table round di questa mattina con l'obiettivo di condividere opportunità e challenge relativi all'introduzione dell'elettromobilità con un focus molto importante nell'auto, però il mondo del trasporto, di questo sono assolutamente orgoglioso, il mondo del trasporto sta prendendo sempre di più spazio in questi tipi di seminari, in questa messa in spagnolo dove possiamo condividere con i nostri clienti e con la società in generale, che è ancora meglio l'ambizione e gli obiettivi di Volvo Trucks al futuro, di sostenibilità e di come Volvo Trucks nel mondo del business e del trasporto può supportare i nostri clienti e dare un grano alla società e al futuro dei nostri figli.